Giuliana è partita per il suo viaggio intorno al mondo, lascia in questo momento piazza della plebiscita, con l'attenza di Giuliana anche i ragazzi della squadra categoria Juniors di ciclismo dei comuni dell'Interland napoletano. I fondi di questa iniziativa alla Save Passage Foundation, una fondazione tutta dedicata ai minori. Ed ecco Maria Grazia Cucinotta e Giuliana sulla bicicletta. Sono contenta per avere una bella margina così. E poi è una donna che sta per affrontare uno dei più grandi sogni, quello di fare il giro del mondo in bicicletta, sarà la prima donna e quindi la donna appoggia il sogno di un'altra donna e di una donna che è veramente ha dimostrato già di essere speciale, adesso lo sta dimostrando ancora una volta. La Cucinotta girerà un film sulla storia di Giuliana e sulla storia di questa vicenda, la ricerca di un Guinness ma anche di aiutare i bambini di Filosofa. La Cucinotta girerà un film della Cucinotta girerà un film della Cucinotta.